Amici di Tecmaki, siamo sempre al Nobel World Congress di Barcellona, siamo nello stand di NVIDIA e adesso stiamo per vedere, ci presenterà un responsabile di Vivid Games, il nuovissimo gioco Real Boxing, lo vedremo su un tablet ovviamente di NVIDIA che possiede il nuovissimo NVIDIA Tegra 4, quindi il nuovissimo processore di NVIDIA. Ok, let's go with the demonstration. All right, so this is the Real Boxing game coming to Android next month, middle of March, on Google Play and Tegra Zone. In the game you have very wide options of customization of your character, so you can choose everything from pants colors, through your shoes, through different tattoos. Some of the items are available right from the start, some are unlocking during the game, some might be by buying game currency. Ok. In the game there's a whole career mode, currently there's three different tournaments, in each tournament it's 12 fights, you need to fight to get the belt. In the profile you can see your character statistics and you can see your career progress, which belts you achieved so far, as well there's achievements you can win during the game. Also there's a gym, where you can train your fighter by a series of mini-games or again by buying the parameters straight away. Also what's interesting, there's a perks known from say shooting games, so we can choose two different perks, each of the perks is doing, giving some special abilities to the character. Finally, there's a fight, so we have seven different arenas, I represent Las Vegas currently, and nearly 20 characters to choose from, each character having a different set of parameters. So to compare with Tegra 4, exactly, now he has explained the biggest characteristics on Asus, so on Tegra 3, but now let's see the difference between Tegra 4 and Tegra 3. Ok, so I can play together, that's Tegra 4, that's Tegra 3, and we can go through the whole presentation before the fight. So thanks to really good computing power of the new chips, we were able to add many details to the environment, we were able to switch on special features using on the console of Unreal Engine, and finally, 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 when we were seeing the game, the animation was simply smooth, because that's because we recorded the motion sessions with professional boxers. So the game could be playable on a pad, or on a touch screen. On a touch screen, there's a control scheme of swiping for attack actions, doing certain punches, while there are two buttons, one is for mocking, the other one is for dozing. If you dodge in certain moments, you'll be able to counter-attack, and if I am KO'd, I have the opportunity to get up on my feet by playing this simple minigame. Why on the gamepad controls, there's one button for defense actions, and the four buttons for different punches. Yes. Yes. Ok. Adesso vediamo, lo facciamo ripartire. Vediamo un po' i comandi e come usabilità del gioco. Yes. La grafica devo dire che è veramente ben curata, anche con Tega 3, e ovviamente con Tega 4 si ha un notevole miglioramento nella fluidità e nell'usabilità del gioco. Il gioco è molto bello e soprattutto ti prende. E la comodità di poter usare il pad in questo caso è eccellente. che si può notare quando si schiva un colpo che il gioco in automatico fa uno slide motion che veramente mette in risalto la potenza di questo nuovo processore di NVIDIA Tega 4. anche i colpi se forse non si riesce a vedere bene dalla telecamera però si vede quando il giocatore colpisce si vede proprio il... come si dice... la scia del giocatore, del pugno, si rallenta l'immagine dando proprio una sensazione di essere proprio lì a vedere il gioco. Adesso ho fatto anche un bel cappò quindi ho vinto. Direi che è proprio tutto. Ringrazio, thanks to Vivid Games. Direi che per ora è tutto. Vi rimando ai prossimi video qui da Barcellona. Ciao a tutti!